Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Non è facile intervenire dopo Vittoria, devo dire, ma ci provo. E parto proprio dal tema del virus democratico, direi che all'inizio, forse vi ricordate, insomma a questo punto è passato un po' di tempo ed è stato un periodo molto denso, ma all'inizio della pandemia quando ad essere colpiti erano anche alcuni personaggi celebri, persone, attori, insomma persone dello spettacolo. Ricordo, forse ricordate appunto che si disse, beh almeno questo virus democratico, questo virus è un livellatore sociale, diceva prima non guarda in faccia a nessuno, colpisce tutti. Questa visione, insomma questa idea è durata poco, ci siamo accorti presto che in realtà la realtà era diversa e le assimmetrie erano notevoli anche da questo punto di vista. Questo in realtà avviene sempre quando ci sono le catastrofi, qualunque siano i terremoti, le inondazioni, le grandi crisi, in realtà mettono sempre in luce il fatto che esistono gli squilibri e li esacerbano, li portano all'estremo, no? Però non li creano di fatto, in realtà amplificano dei problemi che sono già presenti e la pandemia, l'abbiamo visto, ha avuto delle ricadute, delle ripercussioni, in qualche modo già veniva anticipato prima, diverse sulla base dell'appartenenza a categorie differenti. io poi mi concentrerò di più sul genere, ma l'abbiamo vista all'inizio con l'età, le persone più anziane, le persone disabili, le classi sociali diverse, le persone di differenze, di differenti provenienze etniche, negli Stati Uniti c'è stato tutto il fenomeno del Black Lives Matter, ma era legato anche alla fatica e alle difficoltà che erano conseguenti alla pandemia, che aveva avuto conseguenze molto più forti sulla popolazione afroamericana. Quindi, e penso anche quando da noi per esempio si diceva io resto a casa, la campagna ve l'ha ricordato, io resto a casa, per esempio, chi la casa non ce l'aveva, no? I senza tetto, o chi era chiuso in case particolari come i carcerati. Quindi, insomma, tutte quelle popolazioni, tutte quelle categorie, tutti quei soggetti con delle vulnerabilità, con delle fragilità, con dei problemi, hanno subito in maniera molto più forte e a volte anche intrecciandosi, no? In una modalità, diciamo, intersezionale, quindi quando più povertà, più vulnerabilità si mettono insieme. Il tema che è stato anche più volte richiamato prima, il tema anche dei vaccini, anche questo ci pone la questione delle disuguaglianze. Noi stiamo ragionando sul terzo, ma ci sono tantissimi paesi dove non arriva neanche il primo. Quindi, in generale, le pandemie, come tutte le crisi, creano squilibri e questa pandemia non è stata appunto da meno. Tra i vari ambiti, le varie differenze, le varie disuguaglianze già presenti su cui interviene la pandemia, sicuramente c'è il genere ed è su questo che vorrei concentrare un po' di più la mia riflessione. E lo ha fatto su molti piani diversi. Veramente sono tantissimi, avrei una lunga lista, ne scelgo alcuni che mi sembrano i più rilevanti. Già partendo all'inizio, insomma, già da subito ci si era accorti che c'erano degli squilibri e erano gli squilibri legati alla letalità. All'inizio ci si è accorto, le prime analisi, ancora quando il virus non era in Italia e in Cina, cominciavano già a restituirci una diversa incidenza del virus a seconda del genere con una maggiore letalità sugli uomini. Per ragioni diverse, su questo non mi soffermo più di tanto, se volete ci torniamo. Poi appunto il mio background non è un background medico ma è un background sociologico ma è interessante vedere come ci sono alcuni elementi di tipo più biologico legati agli ormoni, legati a tutta una serie di caratteristiche biologiche ma ce ne sono anche legati ai diversi comportamenti che donne e uomini hanno pensiamo al fumo per esempio in Cina, quella era una variabile considerata o i comportamenti nell'igiene, insomma già questo incideva comunque sugli aspetti sul grado di letalità, all'inizio si è notato questo. Poi via via però che si andava avanti quando poi è cominciato anche ad arrivare in altri paesi ad arrivare anche nel nostro, un dato che colpiva che nonostante fosse più letale per gli uomini ad essere contagiate erano molto più le donne. Perché? Perché le donne erano molto più esposte al virus, soprattutto dal punto di vista del lavoro. Le donne erano molto più presenti in quei settori professionali a contatto con le persone e soprattutto a contatto con le persone malate, in particolare gli ospedali, le case di riposo, le farmacie, la grande distribuzione alimentare, insomma tutti quegli ambiti che sono rimasti aperti nella fase anche di chiusura e di contenimento e le donne si sono ammalate di più. Quindi ci sono state molte più malattie professionali contratte dalle donne che non dagli uomini. Quindi questo è un primo elemento che metto sul tavolo, insomma, rispetto a questo tema. Restando nell'ambito del mercato del lavoro, che poi è quello su cui mi vorrei concentrare in generale di più, un secondo aspetto che mi pare rilevante, che credo vada richiamato, è più in generale le conseguenze che la pandemia nel lockdown e anche poi nelle fasi successive ha avuto sull'occupazione femminile. Anche qui niente di nuovo, quello che vediamo è un inasprimento di una situazione che era già presente. Teniamo presente che subito prima che la pandemia scompiasse, l'Italia comunque era il paese con il più basso tasso di occupazione in Europa, 49,5%. Proprio quell'anno siamo arrivati a quel fatidico 50% e così siamo subito anche tornati indietro. Quello che è successo in particolare con questa crisi è che, a differenza delle crisi economiche 2008, insomma quelle precedenti che di solito colpivano i cosiddetti settori ciclici, per esempio le costruzioni, i trasporti, la manifattura, dove sappiamo c'è un'occupazione prevalente maschile, quindi all'inizio le crisi di solito colpivano di più l'occupazione maschile, poi arrivavano anche all'altra, ma insomma prima colpivano lì, questa è arrivata direttamente a colpire in modo rilevante l'occupazione femminile. Più presente invece nei settori anticiclici, quei settori che hanno a che fare con i servizi, con i lavori di cura, con il lavoro con la clientela, il turismo, buona parte del commercio, in cui le donne sono più presenti, in cui tra l'altro sono più diffusi i modelli di lavoro precari, sono meno presenti le tutele del lavoro e quindi anche da questo punto di vista le donne sono state maggiormente colpite. Questo ci aiuta anche a leggere quel dato impressionante che avevamo visto alla fine dell'anno scorso quando si era detto quante persone hanno perso il lavoro a seguito del Covid, 101.000, 99.000 sono donne, un dato impressionante davvero e questo era legato al fatto che in realtà in gran parte erano non rinnovi, erano persone con contratti a termine, con contratti precari che non venivano rinnovati perché i loro settori erano stati particolarmente colpiti. Un altro aspetto che vorrei richiamare sempre restando nell'ambito del mercato del lavoro è quello relativo alla rapidissima estensione e diffusione del cosiddetto smart working, cioè insomma la conversione del lavoro che prima si faceva in presenza che di colpo da un giorno all'altro è diventato un lavoro in remoto. Io, si usa molto, si è usato da subito questo termine di smart working, è un termine assolutamente forviante, non è corretto perché quando parliamo, perché quando si parla di smart working, insomma di lavoro agile, di lavoro intelligente, si fa riferimento non a un lavoro fatto tutta la settimana, tendenzialmente, non a un lavoro fatto senza avere gli strumenti adeguati, non a un lavoro fatto senza avere una formazione ad hoc, non a un lavoro fatto senza che ci siano garanzie rispetto alla disconnessione, quindi si lavora a tutte le ore e neppure un lavoro fatto quando sei a casa e vicino a te ci sono i tuoi figli che magari devono fare scuola a distanza o magari c'è una persona da accudire o c'è comunque il resto della famiglia a cui fare da mangiare perché non si mangia più fuori. Quindi lo smart working è qualcos'altro, io da anni mi occupo di questo e si fa tutt'altro, insomma non è questa cosa qui. Invece questo modo di vivere il lavoro in cui le persone si sono trovate a casa, chiuse per molto tempo, dovendo occuparsi contemporaneamente del lavoro a distanza ma anche della scuola dei figli, spesso non avendo tutti gli strumenti per farlo perché qui di nuovo la questione della classe, degli spazi fa la differenza, un conto è avere una grande casa, noi per esempio a casa nostra comunque eravamo in quattro e per il lavoro che facciamo io e mio marito avevamo quattro computer e quindi questo è stato un privilegio, ma chi di computer magari ne ha uno e chi deve fare i turni, ieri ho partecipato a una conferenza e di nuovo un altro squilibrio di genere, diceva che le donne molto di più hanno condiviso i loro cellulari, i loro computer con i figli rispetto agli uomini, le donne meno degli uomini hanno avuto uno spazio in casa da cui poter lavorare quindi magari stavano in cucina condividendo uno spazio, se no in bagno per avere magari un minimo di intimità, di tranquillità più che di intimità direi. Quindi anche da questo punto di vista squilibri molto rilevanti, è vero che in alcuni casi è servito il fatto di essere a casa anche per redistribuire magari i compiti quando a casa c'era magari il padre e la mamma faceva uno di questi lavori essenziali e quindi questo in qualche caso ha contribuito a ripensare gli equilibri ma in generale i dati, ormai ne abbiamo tantissime evidenze perché è stata fatta tantissima ricerca in questo periodo, ci dicono che in realtà si sono riprodotti per lo più squilibri e asimmetrie che erano già presenti. Questo durante il lockdown, già poi nel momento in cui si è rientrati al lavoro, ancora qui le molte evidenze che abbiamo ci dicono che sono rientrate molto meno le donne degli uomini, in percentuale, non erano ripartite le scuole, oppure non c'era certezza comunque su questo quindi molte persone hanno deciso di prendersi dei periodi o hanno dovuto lasciare il lavoro o hanno ridotto il numero di ore con conseguenze anche dal punto di vista per esempio dell'accrescimento dei divari salariali. Quindi insomma sono molte articolazioni diverse rispetto al lavoro ma in tutte vediamo l'accentuarsi di squilibri già presenti e anche il ritornare indietro rispetto a trend che avevamo visto, il trend sull'occupazione ma anche il trend sull'esternalizzazione dei servizi domestici, tutta una serie di fenomeni che ci dicevano che si stava andando molto lentamente nel nostro paese, molto più lentamente rispetto agli altri, verso situazioni di maggiore equilibrio, improvvisamente tutte queste cose sono tornate indietro insomma. In alcuni paesi alcuni problemi li abbiamo visti subito, laddove ci sono magari meno tutele del lavoro negli Stati Uniti è stato evidente da subito che le donne perdevano, lasciavano il lavoro ed erano meno presenti, in Italia questo l'abbiamo visto dopo, l'abbiamo visto con i dati appunto di dicembre e continuiamo in qualche modo a chiederlo anche adesso e anche la crisi economica conseguente alla pandemia avrà conseguenze da questo punto di vista. Quindi questo per quanto riguarda, sono alcuni spunti, ce ne potrebbero essere molti altri, magari li riprendiamo. L'altro capitolo che vorrei toccare è quello dei diritti, oltre a creare squilibri, anzi non a creare, a accentuare squilibri già presenti nel mercato del lavoro, la pandemia è entrata anche in altri ambiti, uno di questi è quello dei diritti e anche della violenza. Anzi parto proprio da questo, no? Anche da questo punto di vista ormai i dati sono numerosi, in realtà sono emersi fin da subito, ma adesso ne abbiamo di più e anche di più sistematici e ci hanno messo in evidenza come la pandemia abbia aumentato notevolmente il fenomeno della violenza di genere, soprattutto la violenza all'interno delle famiglie. Ovviamente, soprattutto nel periodo del lockdown, le persone sono rimaste chiuse in casa. In generale, anche qui, le crisi aumentano sempre questo tipo di fenomeni, perché aumentano la pressione sociale, aumentano lo stress e quindi l'insicurezza, anche l'insicurezza economica, aumenta la violenza. In questo caso, l'aggravante era che le persone erano chiuse in casa con gli abusanti. Quindi era anche difficile chiedere aiuto, era difficile essere visti, magari a volte quando si subisce violenza qualcuno può notare, per esempio, che ci sono i colpi, che ci sono i lividi. In questo caso non era possibile. Era molto complicato chiedere aiuto, anche i numeri a cui ci si può riferire. Le operatrici raccontano che le persone andavano sotto la doccia. Erano sempre case assieme, quindi era più complicato trovare il modo di denunciare questo tipo di situazioni. Quindi c'è stato un momento iniziale in cui le denunce sono molto calate, ma non perché non ci fosse il fenomeno, ma perché non era possibile denunciarlo. Poi c'è stata una importante campagna social, ci sono trovate soluzioni alternative, la possibilità di andare in farmacie e dire delle parole specifiche. Si è un po' potenziato anche il sistema digitale, che era molto scarso prima da questo punto di vista, e allora è arrivato il fiume delle denunce. I dati ci dicono che dopo sono aumentate in maniera assolutamente rilevante. L'altro aspetto che anche volevo richiamare da questo punto di vista è quello dei diritti e qui potrei toccare molte cose, ma ne richiamo una in particolare, la limitazione dell'accesso ai servizi di cura e di assistenza al parto, alle patologie riproduttive e soprattutto alle interruzioni volontarie di gravidanza. Questo in parte è un problema strutturale, cioè legato al fatto che c'è stata una rifocalizzazione all'interno degli ospedali e ci si è concentrati totalmente o in maniera assolutamente prevalente sul Covid e questo ha avuto poi incidenza anche su altri tipi di patologie, però anche su queste. Però poi in specifico c'è stato proprio un tentativo portato avanti da diverse parti, soprattutto nei paesi laddove c'erano magari guide autoritari o governi più conservatori, di utilizzare la scusa del Covid per tornare indietro sui diritti acquisiti. Faccio notare che comunque anche in Italia è stata fatta una petizione da parte di Provita proprio per interrompere l'interruzione di gravidanza durante il periodo del Covid e più in generale il fenomeno è stato comunque presente anche da noi, non in modo eclatante e esplicito diciamo come in alcuni paesi, per esempio dell'est Europa, ma in parte anche in alcuni paesi negli Stati Uniti, ma comunque si è assistito a una riduzione del diritto di poter accedere a questo servizio, perché sapete che in Italia c'è comunque un problema molto rilevante di obiezione di coscienza, quindi sono già poche le persone che i medici che si prestano a fare questo tipo di interventi con il Covid sono diminuiti ulteriormente, quindi c'è stato un ulteriore problema da questo punto di vista. L'ultimo ambito che vorrei sottolineare riguarda, abbiamo ragionato anche sulla dimensione politica, sulla dimensione della gestione della pandemia e vorrei concentrarmi su questo, su chi ha gestito la pandemia e la diversa presenza di donne e di uomini nei contesti decisionali, nei contesti di governo della crisi. Qui anche qui ricorderete che poco dopo lo scoppio della pandemia sono nati come funghi i comitati, le task forces, gruppi, regie, insomma tantissimi soggetti che dovevano, a cui veniva chiesto di affrontare gli aspetti sanitari, gli aspetti logistici, gli aspetti informatici, insomma ce ne erano veramente per tutti i gusti, molto varie diciamo rispetto agli obiettivi, molto però omogenee dal punto di vista della composizione, composte in grandissima prevalenza, in alcuni casi in esclusiva composizione da uomini, come se appunto le donne non potessero, non fossero in grado, non dovessero direle a loro rispetto a un problema che in realtà riguardava tutti e che abbiamo detto per le conseguenze in realtà riguardava quasi un po' di più loro. C'è stata un'unica eccezione, il ministero, la ministra delle pari opportunità ha fatto questa task force tutta al femminile, però anche qui colpiva perché come dire che le donne possono occuparsi solo delle cose che riguardano le donne, ma non possono ragionare, non possono intervenire su questioni e problemi di respiro più ampio. La cosa interessante è che comunque c'è stato un po' di rumore su questo, i dati sono usciti e c'è stata anche una mobilitazione e qualche cosa si è fatto. Però ogni volta bisogna cominciare da capo, comunque non restano lì le conquiste. E questo è uno squilibrio che colpisce di per sé, ma colpisce anche, direi forse soprattutto, rispetto al fatto che in realtà su questo specifico tema, il virus, questo tipo di patologie, in realtà esistono molte competenze femminili, esistono vere e proprie eccellenze femminili. Adesso senza andare alle angeli dello Spallanzani, perché poi le donne che fanno queste cose diventano angelicate. Però molti, per esempio, dei gruppi che hanno lavorato ai vaccini sono coordinati da donne. Ci sono queste competenze, ci sono delle eccellenze in questo campo. Eppure appunto nel momento in cui si mettono insieme dei tecnici, le donne spariscono. E questo ancora una volta non è un problema che nasce in realtà con la pandemia, ma è la conseguenza di uno squilibrio strutturale. Perché? Perché in questi comitati si mettono i responsabili di altri comitati, si mettono le persone che hanno responsabilità istituzionale. Siccome ci sono pochissime donne in queste posizioni, finisce che non ce ne sono neanche nei comitati. E un altro paradosso, ed è l'ultimo, che richiamo rispetto a questo, è che è curioso che appunto da un lato non ci siano state donne pochissime in questi comitati e poi invece ci si è cominciati ad accorgere che se si guardava come era gestito a livello mondiale la pandemia, se si guardava a livello di... qualcuno ha cominciato ad andare a vedere cosa fanno i diversi governi, come i diversi governi gestiscono la crisi pandemica, e ci si accorgeva che nei governi che sembravano essere più virtuosi, che stavano gestendo meglio la pandemia, c'erano a capo delle donne, delle presidenti del Consiglio, delle governatrici, insomma delle figure femminili, no? L'Islanda, la Finlandia, Taiwan, la Nuova Zelanda, insomma ci sono stati... e questo è curioso perché in realtà poi le donne al governo nel mondo sono pochissime, sono il 5%, quindi si citavano i casi virtuosi, si vedeva che era una donna, quando appunto le donne sono pochissime, quindi probabilmente una qualche correlazione, insomma un qualche elemento per osservare il fenomeno, per osservare il fenomeno c'era. Ecco, che cosa... in realtà quello che... non è che voglio fare una riflessione di tipo essenzialista, no? Dire le donne sono più brave a governare, gli uomini sono meno, questo è molto lontano anche dalla visione che io ho di come funzionano poi anche i rapporti di genere, il genere è una costruzione sociale, non ha a che fare con differenze essenziali. La questione è che donne e uomini hanno vissuti diversi, hanno esperienze diverse, le donne sono più abituate probabilmente anche ad incontrare situazioni di maggiore difficoltà, hanno vissuto di più anche il problema magari della segregazione, quindi tendono ad essere più inclusive, proprio non sempre, non tutte, ma in generale, in termini diciamo di probabilità, di statistica, tendono ad esserlo di più e quindi hanno poi portato quelle loro esperienze, anche vissute, nella gestione del virus. Altro aspetto, le donne hanno meno bisogno di dimostrarsi forti, di dimostrarsi virili, e quindi meno degli uomini hanno usato per esempio quelle metafore della guerra o dell'incuranza rispetto al virus, alla malattia, l'idea di non si mette la maschera, non ci si deve pulire la mano, vi ricordate Johnson che diceva che andava nell'ospedale e dava la mano alle persone, quindi questo bisogno di dimostrare una faccia virile, forte, guerresca, e invece usando altri registri più legati all'inclusione, all'attenzione, e quindi in che senso sono stati poi più efficaci? Nell'essere migliori comunicatrici, nel preoccuparsi anche dei gruppi più vulnerabili, nel parlare per esempio ai bambini, in Italia questo non è stato fatto, ma ci sono alcuni paesi in cui le prime ministre, insomma le governatrici, hanno fatto le conferenze stampi per i bambini, hanno dedicato spazio a spiegare ai bambini cosa stava succedendo, oppure si sono occupati di chi non aveva, nel momento in cui bisognava stare tutti chiusi in casa, di chi non aveva una famiglia, di chi era da sole, quindi hanno ragionato per esempio come in Nuova Zelanda sulle bolle, costruire delle bolle relazionali, quindi hanno avuto delle attenzioni che sono state importantissime, perché certo la dimensione sanitaria è cruciale, la dimensione del controllo è importante, ma la dimensione del benessere delle relazioni, lo abbiamo visto, non è meno rilevante, quindi questa attenzione è stato un altro elemento di efficacia dell'agire di queste governatrici. A questo si aggiunge anche il fatto che è più facile che una donna arrivi al potere in contesti più democratici, più egualitari, e quindi c'è anche un contesto che naturalmente è diverso. Bene, questi erano un po' i punti che volevo richiamare, l'ultima riflessione che faccio riguarda un po' questa, all'inizio insomma, quando ho cominciato a riflettere anche sulle implicazioni di genere della pandemia, come molti avevo anche un pezzo di speranza, insomma, non solo la dimensione critica, ma anche il ragionamento, va bene, però questo può diventare un elemento di cambiamento, questo può essere un'occasione di rigenerazione, può essere una modalità per ripensare, può essere un'occasione per ridistribuire ruoli, per accorgerci di tutto quello che non funziona e per cambiarlo. Devo dire che questo anelto è venuto un po' meno, ecco, in questo momento io ho la sensazione che non ci sia, che si sia imparato meno per adesso, almeno di quello che si poteva imparare, che la tensione sia un po' a tornare alla normalità, non lo penso da tanti punti di vista, anche forse un esempio può essere anche Brunetta, cioè i discorsi di Brunetta, per esempio, ho parlato dello smart working, ho detto tutti i problemi che ci sono, eccetera, però può essere uno strumento che funziona, può essere una modalità che va bene, si impara dagli sbagli e si fa di meglio, non si torna indietro e si cancella tutto. Invece la sensazione forte, il dispiacere un po' è che forse anche la capacità di visione dei nostri politici sia così limitata da non riuscire a apprendere da ciò che è successo e andare oltre, ma piuttosto tendere a tornare indietro. Ma magari su questo poi ci torniamo, per cui fermo qui. Grazie mille Barbara, grazie davvero. Grazie.